Buongiorno Mary, buongiorno. Mary io mi sono sempre un po' dopo di te, un po' dopo che arrivi tu. Tranquilla, oggi sono arrivato un po' fino più tardi. Perché chi fu Mary? Canente che ha buttato a me, sono già preso l'analisi. Però è vero che tu stai vestita Tutta l'euro, Mary, che fu? Perché? Che fu? Ti mostro il pacchio. Dì, quando ti dice una cosa impastata. Comunque ti hanno detto l'altra volta che Mary sei troppo scollata, Mary come fai a lavorare con i jeans e stai occupando. Lo so, va bene, le critiche ci stanno, lo so, e Cristiano accupo non più in mia. Però oggi ti senti tutta l'euro. Guardate, guardate, guardate. Sì, perché scappi i neri, se non ci posso fare i neri. Eh, però è comoda, non è scollata. Sì, non posso tenere il picchiaio perché ho due problemi. Vedi? Vabbè, ragazzi, se Gisa oggi, lei prende tutti i vostri consigli. Certo. Vabbè, Mary, a dopo. Ora me la condendiamo a tutti. Sì, a dopo Mary, a dopo. Non basta. No, vabbè.